ciao ragazzi siamo in diretta oggi 4 settembre vogliamo far vedere com'è la spiaggia di igia marina mentre tutti i nostri ospiti stanno pranzando io e Giulia siamo venuti a farlo più dal mare anche noi ogni tanto veniamo poco ma veniamo guardate che bel mare ancora 27 gradi si sta si sta veramente bene ciao ragazze oggi come è andata bene cosa avete fatto in spiaggia sui dc bravissime alessia ciao alessia alessia come sta sul salvatore da dio è il quarto anno che veniamo siamo benissimo dai vi aspettiamo su per pranzo ciao davvero caldo sta benissimo settembre poi sta molto bene spiaggia maggio settembre sono i periodi più belli perché comunque si sta molto bene larghi comodi tranquilli soprattutto pesci rossi allora Giulia cosa cosa raccontiamo ai nostri amici allora come saranno le prossime due settimane che abbiamo delle offerte speciali per le prossime settimane settimana prossima abbiamo l'offerta partire da 65 euro a persona al giorno mentre l'ultima settimana costa solamente 54 euro a persona al giorno e in più accettiamo il bonus vacanza sempre pensione completa le vande comprese ovviamente tutti i servizi compresi come sempre accettiamo il bonus vacanza anche per pochissimi giorni quindi se volete venirci a salutare l'ultimo weekend noi vi aspettiamo intanto con l'occasione facciamo vedere quanta strada c'è dalla spiaggia all'albergo visto che spesso ce lo chiedete e facciamo fatica anche a spiegarvelo perché è veramente molto molto vicino sono 80 metri ma velocissimi allora Giulia come andate l'estate? benissimo è stata un'estate diversa ma bella bella è stato un agosto bellissimo si anche il tempo è stato stato quasi sempre bello quest'anno temperatura ideale non ha mai fatto caldo eccessivo un po' come adesso sta davvero bene temperature miti i nostri ragazzi che si sono venuti allenare sci al mare sci club che si viene ad allenare al mare eccoci qua siamo arrivati quasi tutti i nostri ospiti sono già a pranzo adesso vi accompagniamo subito prego grazie